Da parte del mondo della scuola c'è attesa di conoscere i contenuti del documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile. Solo fino a pochi giorni fa si parlava di un documento che avrebbe consentito di dare attuazione a diverse misure importanti per la scuola, da un piano straordinario per l'assunzione di migliaia di precari fino ad uno stanziamento importante per l'eliminazione delle classi pollaio. Ma le ultime dichiarazioni del Presidente Giuseppe Conte non fanno presagire nulla di buono. Il Presidente infatti ha parlato di una probabile operazione di revisione della spesa per evitare l'aumento dell'IVA a partire dal prossimo autunno. La revisione potrebbe costare miliardi di euro da ripartire fra i diversi ministeri. Non c'è ancora nulla di certo per la verità ma l'esperienza delle precedenti analoghe operazioni dimostra che i tagli di spesa potrebbero riguardare anche scuola e università e non sarebbe neppure la prima volta se stanziamenti già previsti dalla legge di bilancio venissero ridimensionati in corso d'anno. A questo punto appare sempre meno probabile che il DEF preveda risorse per i contratti pubblici. D'altronde il silenzio mantenuto in proposito dal Ministro Bussetti durante l'incontro con i sindacati appare piuttosto eloquente. La situazione insomma è molto complicata e non a caso i sindacati non solo hanno confermato lo sciopero del 17 maggio ma hanno anche proclamato il blocco di tutte le attività aggiuntive dal 26 aprile fino al 16 maggio. Un problema in più per il Ministro e per il Governo che per far rientrare la protesta dovranno ricorrere ad un mezzo miracolo. Miracolo che però non è del tutto da escludere visto che fra poco più di un mese si andrà al voto e per Lega e Movimento 5 Stelle un DEF lacrime e sangue potrebbe persino innescare la conclusione della esperienza di governo. Su questo tema noi continueremo a fornire notizie e informazioni. il DEF verrà definito nelle prossime settimane entro il 30 aprile al massimo quindi continuate a seguirci per saperne di più su questo argomento mandateci le vostre osservazioni i vostri interventi grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.